I fumble sono le creature più dispettose e insolenti che io conosca. Naughty, naughty creatures. E volete sapere da dove arrivano? Dai bambini della mia classe, dai bambini di Fumble Land. Fumble Land Kids, they make fumbles. Sì, sì. Ogni volta che fanno un errore di spelling, they make a fumble. Ogni volta che scrivono male una parola sul quaderno, they make a fumble. Eccolo, questo è il fumble. Questo deve essere un fumble maschio. A voi, fumble. Ok, ok. Oh, jar! Per tutte le puzzole, Sam, non ci arrivo, datti una mossa. Arf, arf. Ma cosa significa mandaci penni? Dai Sam, su, ti prego, su, 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 fai il bravo cucciolo. Go and click the fumble in the jar. In the jar, in the jar, put the fumble in the jar. Arf. Oh, per tutte le puzzole, Sam. Ok, meno male che c'è penni. Tu sei pigro, sei pigro. You are a lazy, lazy mouse dog, Sam. Arf, arf, arf. No, 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 non è vero. Avete sentito cosa ha detto? Non è vero, Sam. Scudin solare non è fare qualcosa. Wagging your tail è soltanto wagging your tail. Arf, 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 arf. it. Ciao. Ciao. Grazie a tutti